vi rubo solo tre quattro minuti del vostro tempo per parlare di parma crotone altra partita che ho analizzato nello specifico dove sono veramente ad esaminare insieme a vicenza alessandria dove ho fatto un altro video che vi invito a recuperare lo lascio sia qui che a fine di questo video qui allora io è un po di tempo che sto mettendo sotto esame sto guardando sto cercando di capire perché il parma non riesce veramente a comunque a venire fuori da questa situazione veramente veramente assurda ok veramente veramente assurda crotone squadra anche anch'essa in veramente in molta molta difficoltà prima di partire proprio di parlarne vi invito a lasciare un like iscrivervi al canale condividerlo con tutti i tifosi del parma del crotone che conoscete perché qui su questo canale si parla di tantissimo calcio e è di vitale importanza il vostro supporto e la vostra collaborazione quindi io vi invito a iscrivervi al canale condividerlo con tutti i tifosi del parma del crotone che conoscete attivate anche la campanellina per rimanere informati ed aggiornati su tutti i miei contenuti che porto qua sul canale primo link descrizione calcio store 24 maglie da calcio di tutti i tipi e trovate tutto qua sotto e poi sotto tutti gli altri miei social allora parma crotone 1 a 1 io sono partito sono andato a vedere la formazione che ha messo iachini devo dire che dal punto di vista del gioco dal punto di vista della propositività quel capellino quel capellino meglio rispetto alle scorse settimane io l'avevo visto fino alla fine poi però complice il fatto che di là c'è un crotone che per me non me ne vogliano i tifosi del crotone è una squadra che è poca roba il crotone quest'anno purtroppo per tutti gli amanti degli squali il parma ha trovato quella magia con il mudo vasquez che comunque è un giocatore che quei colpi in canna ce l'ha gol veramente da da cineteca gol da far vedere e far rivedere nei video nelle scuole calcio veramente da apprezzare una punizione veramente al bacio sotto l'incrocio dei pali gol fantastico che io ho apprezzato e veramente ma ma stupito proprio sono rimasto a bocca aperta gol spettacolare però il parma è una squadra che non gioca c'è non gioca e tre triccate e tra tracchate e gioca tutto in orizzontale gioca sempre in orizzontale e parte giocano orizzontale e giocano orizzontale non c'è un giocatore a centrocampo che fa girare il pallone non c'è un giocatore un playmaker che fa girare il pallone che detta ai tempi che fa girare la squadra che fa salire i terzini che alza il baricentro che fa qualche imbucata per l'attaccante veniva vasquez a piglia il pallone poi giocava su man lì davanti quel benedijak che comunque è un giocatore che a me piace che lo sto osservando da vicino è un giocatore che ha delle qualità importanti può migliorare molto però per il resto poca cosa poca cosa va bene che ora è arrivato simi e può dare una grossa mano però il parma se gioca in questo modo qui senza regista per me è una squadra che non riesce a fare quel passo in avanti è difficile che c'entri i playoff se giochi così quindi io cambierei modulo l'ho detto e l'ho ribadito passerei con un centrocampo a tre con due trequartisti e una punta lì davanti oppure puoi giocare anche così però ti serve qualcosa di più di diverso a centrocampo va bene perché per il resto non è una squadra che mi entusiasma è quella propria squadra così poi oggi partito veramente in sonno assurdo di là il crotone ho visto poca roba raga è poca roba io ora a parte maric e mulattieri e mogos e estvez che giocava nella spezia conosco pochi pochi giocatori del crotone però non ho capito qual è il progetto del crotone quest'anno cioè retrocedi dalla serie a comunque c'avevi la possibilità di tenere in rosa dei giocatori validi non so se per un discorso di bilancio se per un discorso di non progetto ti trovi lì a veramente affaticare giochi male non riesci a invertire la rotta navighi in tantissime amarezze non c'è una proposta di gioco oggi il pareggio è stato giusto tra le due squadre due squadre in difficoltà due squadre piatte due squadre che ti fanno venire in sonno due squadre che sembra che manco vogliono centrare l'obiettivo c'è partitaccia brutta partitaccia che mi ha fatto venire sonno partitaccia dove ho capito che queste sono due squadre in questo momento senza carattere senza voglia rispetto comunque alle dirette concorrenti per centrare l'obiettivo stagionale questo ho capito della partita fatemi sapere cosa ne pensate un bel like iscrivetevi al canale come dico sempre ciao a tutti ciao raga